oggi si torna a parlare di investimenti i miei investimenti il mio portafoglio personale vediamo in termini di capital gain di dividendi incassati e sono molto contento di dire che in termini di dividendi questo trimestre anche se di poco è stato il mio miglior trimestre di sempre e poi se ci sono state operazioni di acquisto o di vendita da parte mia e visto che ci siamo che mi è stato chiesto più volte vi parlo anche del pack che sto facendo su 2tf world ma tutto questo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio io come sempre sono Pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi libro del quale trovate il link qui sotto in descrizione. Siamo arrivati al mese di luglio e per cui tempo di vedere come si è comportato il mio portafoglio in totale nel trimestre che si è appena concluso. Trimestre che ha dato l'impronta definitiva del fatto che il mercato è leggermente in rosso ma giusto un pochino come tutti o quasi il valore del portafoglio è andato scendendo ma fortunatamente anche a causa della mia allocation molto meno indirizzata al mercato americano e magari molto più differenziata ha avuto delle dinamiche diverse. A differenza dei video precedenti sull'aggiornamento non faccio vedere lo schermo e io che ci parlo sopra ma continuo a parlare qui davanti a voi così dovete sopportare la mia faccia e faccio vedere gli screenshot. Dovete sopportarmi fino alla fine con questo faccione. Partiamo subito prima di tutto partiamo dal crowdfunding come sapete ho iniziato a maggio ad investire in prepay e dal primo video di presentazione ho anche investito in un secondo progetto proprio alla fine di maggio per un totale di 550 euro fra entrambi i progetti. Il primo è un progetto immobiliare con un ritorno previsto del 18 per cento e il secondo è un app che viene utilizzata per le farmacie con un ritorno previsto del 13 e mezzo per cento. Ho intenzione di investire in altri progetti nel terzo trimestre ma il budget di quello precedente era andato finito e per cui non ho investito nell'ultimo investimento l'ultimo progetto che era stato pubblicato. Passiamo al portafoglio azionario che è la parte più cicciosa dei miei investimenti che per il secondo trimestre consecutivo è sceso perdendo circa un 10 per cento di valore nell'ultimo trimestre come si vede dal grafico. Un trimestre difficilotto ma almeno perso meno della metà di quello che ha fatto il Nasdaq nello stesso periodo non è che io sia un fenomeno ma la mia asset class la mia allocazione è sicuramente meno growth e nel contempo nei miei rendimenti non ho calcolato neanche i dividendi che ho incassato in questo trimestre che poi è un passaggio che andiamo a vedere subito dopo. Dividendi che come dicevo prima mi hanno molto soddisfatto questo trimestre ho incassato 186,32 euro contro i 153,77 del trimestre precedente che sono dovrebbero essere in circa un 17,4 per cento in più rispetto al trimestre precedente anche se in termini monetari sono solo 32 euro e mezzo non è che quello che mi interessa ma il trend quello riazista quello sì che mi interessa. I grandi innalzatori sono stati i due etf che ho aggiunto proprio non tanto tempo fa l'iShares Asia Pacific Ticker IAPD che mi ha dato 30,78 euro e poi l'iShares UK Dividend col Ticker IQQD che mi ha dato 26,62 euro. Questo mese è anche arrivato il dividendo di PepsiCo di 6,23 euro che mi ha dato anche una bella manina a fare crescere tutto. A lui mettendo un altro buon mese sia per il dividendo di Polar che è stato tra l'altro proprio alzato in questo mese da parte del consiglio dell'amministrazione e anche l'altro etf il Lixor Stocks Exchange Europe Select Dividend. Per quanto riguarda quelli che sono stati i migliori peggiori titoli del portafoglio la discesa ha portato molti dei miei titoli a fare una bella corsa verso il basso. Iron Mountain continua a stare sempre lì in alto seguita da Pembina Pipeline e poi da PepsiCo e infine da Realty Income. Le peggiori sono scese di tanto e sono quelle che hanno trainato il portafoglio verso il basso. Stike Industrial è quella peggiore dopo che per mesi navigava fra le migliori acque. Poi abbiamo Stellus Capital seguita da Polar che avendo comprato solo da pochi mesi non ha neanche senso andare a valutare e trovandosi poi nel periodo più nero è normale che sia lì. E infine Banco Nuova Scozia. In quest'altra immagine potete anche vedere quelle che sono tutte le mie posizioni attuali nell'ordine di rendimento e nell'ultima colonna si trova anche la ponderazione del mio portafoglio. Non vedete però il rendimento reale in quanto tutte le posizioni che ho chiuse non compaiono appunto in questo report. Proprio per questo motivo vi ho fatto vedere il grafico iniziale all'inizio del video sul portafoglio che mostra proprio il suo evolversi. Al momento sono ancora ampiamente in positivo dalla sua creazione fatta ad aprile del 2021. In quest'altra immagine potete vedere come sia attualmente la diversificazione. Sono sempre 100% azionario ma l'azionario è diviso fra equities dirette quindi aziende dirette e l'etf così come anche per la diversificazione successiva che usa invece quelle che sono i vari settori dove il settore finanziario e quello immobiliare la fanno da padrona. Poi fra gli altri abbiamo gli etf e in mezzo i beni di consumo primari ed energetico. Nell'ultima torta si può anche vedere che sono ancora ampiamente ed eccessivamente esposto al dollaro ma la mia opera di diversificazione valutare è comunque in corso e come sapete aziende di altri paesi tra cui Australia, Canada, Sudafrica, Danimarca, Giappone e Svezia principalmente sono nelle mie sfere di apprezzamento e qualcosa a breve fra queste nazioni entrerà nel mio portafoglio. Un ultimo spunto riguardo a PAC che sto facendo per il bimbo che mi è stato chiesto diverse volte. Ho solo due etf molto simili per il PAC. Uno l'ho iniziato da brevissimo con il servizio PAC in etf di directa broker sul quale tengo appunto questo PAC. Un nuovo fondo molto piccolo di Lixor che segue appunto il classico indice MSCI World ad accumulazione. Il primo ed il 15 di ogni mese vado a versare 80 euro per cui 160 euro al mese. Semplice e pulito e per cui circa 1920 euro anni su questa posizione. Il secondo etf è una Shares World Momentum Factor e per cui un etf che segue 23 paesi sviluppati e le sue aziende con maggiore momentum. In questo modo mi permetto di seguire diverse nazioni e non solo negli Stati Uniti visto che si tratta comunque sempre di un indice mondiale. Su questo etf faccio versamenti semestrali di circa 600 euro per cui 1200 euro anni circa. Poi se il mercato scende un po' di più magari posso anche pensare di aumentare. Ho preferito a non puntare solo sul momentum cosa che in termini di rendimenti è quella tecnicamente più prolifica per motivi prettamente di volatilità e di drawdown. Ultimo aspetto le mie ultime operazioni. Ci andrò a fare un video dedicato ma principalmente andrò a chiudere una posizione in questa settimana del mio portafoglio quello che avete visto nelle varie posizioni. Un'azienda di quelle che mi dà il dividendo più alto tra l'altro nel mio portafoglio ma che per l'ennesima volta ha emesso innovazioni diluendole per cui ora ho detto basta. Pensavo sinceramente che avessero finito ma è già la quarta volta che fanno diluizioni di azionari e per cui mi sono stufato. Io cerco dividendi in crescita e costanti ma anche aziende che offrono ottime possibilità di capital gain. E infine andrò ad aprire due posizioni nuove. Non vi dico se sono aziende etf e solo etf o solo aziende ma comunque sono alto dividendo e saranno azionari. L'importante è che siano ad un buon prezzo, che siano a buon mercato e in questo caso andrò ad aumentare anche la diversificazione e valutare del portafoglio. Vi ho già detto qualcosa. Video dedicato comunque alla prossima settimana assolutamente per tutti voi con tutti gli approfondimenti. No spoiler ma solo tanta suspense o suspense. Eccoci qui alla fine dell'aggiornamento dei miei investimenti e del mio portafoglio di questo secondo trimestre del 2022. Ti ho dato una panoramica generale sul mio portafoglio azionario e sui nuovi investimenti alternativi. Per chi volesse anticipazioni prima del video della prossima settimana sui miei investimenti vi ricordo che abbonandovi su Patreon o su YouTube potete vedere post appunto dedicati. Fra cui anche queste operazioni. Se il contenuto è stato di tuo credimento ti chiedo per cortesia di farmelo capire con un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube. Ti ricordo che puoi sostenermi al costo di un caffè al giorno sia qui su YouTube che su Patreon. Se poi sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessun contenuto successivo mi raccomando iscriviti e clicca la campanella delle notifiche così ogni mio nuovo video ti verrà notificato. Bene anche per oggi è tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao!